Buona giornata amici da Massimo Foghetti, oggi è venerdì 18 marzo 2022, siamo pronti per la rassegna stampa di Fano TV, cominciamo la giornata con la lettura dei giornali, a partire dal Corriere Adriatico e dal resto del Carlino, ovviamente con particolare interesse e attenzione alle pagine locali. Vediamo subito qual è il santo del giorno, oggi è San Cirillo di Gerusalemme. San Cirillo di Gerusalemme visse ai primordi del cristianesimo quando il cristianesimo fu considerato una religione di Stato dopo l'editto di Costantino. Nacque infatti nel 314, studioso della Sacra Scrittura, divenne un ardimentoso difensore della fede, fu nominato vescovo di Gerusalemme e combatte l'eresia degli ariani, più volte poi dovete fuggire, dovete andare in esilio per salvarsi la vita perché il contrasto non era solo un contrasto di idee ma era anche un contrasto fisico, insomma una lotta pericolosa. San Cirillo di Gerusalemme. Stamattina il sole sorge alle 6 e 15 e tramonta alle 18 e 19 e vediamo subito le condizioni del tempo. Ci sono un po' di nubi sul territorio marchigiano. La giornata comunque si mantiene stabile ma con sole a tratti offuscato dal passaggio di nubi medio-alte. Sono nubi irregolari, talora compatte. I venti ispireranno da una direzione da erst-nord-est, sulle coste da est in modo particolare e sull'interno da est-nord-est. Le temperature sono in calo. Apriamo il giornale sul resto del Carlino e vediamo una apertura un po' inconsueta, un po' particolare. I fanesi conoscono la scuola elementare Gentile che si trova nel porto, in zona porto a Fano. Ma chi era Gentile? Pochi lo sanno. Gentile, Francesco Gentile, classe 1930, era un comandante della compagnia speciale antiterrorismo del reparto speciale di rinforzo per l'Alto Adige. Fu un'illustre vittima della strage di Cima Vallona, una strage compiuta dagli indipendentisti sud-tirolesi. Oggi sul resto del Carlino parla la moglie, la moglie che ha 90 anni e ha rilasciato una intervista a Giorgio Guidarelli. Mio marito ucciso dai separatisti, ma io oggi perdono quegli uomini, ha dichiarato. Parla Oretta Gianmattei, moglie fanese del capitano Gentile, vittima della strage appunto di Cima Vallona. Fu uno dei caduti nella guerra con gli indipendentisti sud-tirolesi. Quei ragazzi non sapevano cosa facevano, ha dichiarato. E vediamo anche un commento che fa Giorgio Guidelli sul fatto che racconta, sull'episodio che racconta. Anche Fano si portò dietro gli strascichi di una guerra civile non dichiarata e pressoché trascurata dai grandi media la questione sud-tirolese con una vittima illustre, il capitano Gentile. E la città non l'ha dimenticato, dedicandogli anche una scuola. La scuola Gentile, frequentata da tanti ragazzi che con l'esempio di questa vittima della crudeltà, del terrorismo umano, insomma può costituire un esempio edificante. Ed ora parliamo ancora di bombe, ma sono bombe più vicine a noi. Altre mamme portate in salvo dalle bombe. In salvo dalle bombe tre mamme ucraine con i loro rispettivi figli di 5, 11 e 15 anni sono stati portati in salvo da una spedizione organizzata da tre uomini politici fanesi, due consiglieri comunali e un assessore che sono andati al confine tra Romania e Ucraina dove appunto hanno salvato, hanno portato prima degli aiuti e poi hanno portato indietro queste persone che ora possono risiedere tranquillamente nel nostro territorio. Altre tre mamme portate in salvo dalle bombe. Che fine ha fatto il rilancio delle terme di Carignano? Ebbene non solo se lo chiede la responsabile del comitato per l'apertura delle terme, la Morbidoni, ma se lo chiedono anche il sindaco Massimo Seri e il vice sindaco Cristian Fanesi. Si riaccende il dibattito su Carignano, il sindaco Seri chiede chiarezza. Non nascondo che anche io, ha detto, nutro qualche preoccupazione. Il gruppo della Massa Marche che ha acquistato le terme e che intende appunto rilanciarle con un progetto innovativo al momento insomma ritarda per la presentazione di questo progetto. Si sa ci vogliono soldi, ci vuole tempo, i tempi non sono nemmeno molto propizi per quanto riguarda gli investimenti, però questo complesso, quello che rimane a meno delle terme di Carignano, col passare del tempo si degrada sempre di più. E poi c'è il problema delle concessioni, delle concessioni demaniali, delle acque, quello delle fonti. Insomma è un problema da risolvere e il tempo intanto passa. Sassonia in attesa di conoscere come cambieranno i parcheggi. Sono soprattutto i residenti di Viale Dante e Lighieri, di Viare Adriatico, che in vista dell'estate chiedono come l'amministrazione comunale intende agire per garantire l'incolumità dei pedoni e ciclisti in merito anche al passaggio sempre più frequente dei mezzi che devono raggiungere la new copromo e garantire appunto l'incolumità degli utenti più deboli del traffico. Proprio ieri l'avvocato Antonio Secli, che rappresenta i residenti, ha sollevato la questione all'assessore alla qualità urbana Fabiola Tonelli per organizzare un incontro e fare un aggiornamento sulla situazione. Poi vediamo qua una iniziativa del Centro Studi Vitruviani. Il Centro Studi Vitruviani alla National Gallery sarà a Londra con il modello ligno della facciata di Palazzo Branconio delle Aquila, l'edificio romano progettato da Raffaello. Si tratta di un plastico che riproduce, spiega il presidente del Centro Studi Vitruviani, Dino Zacchilli, la facciata del Palazzo Branconio dell'Aquila a Roma, che oggi non esiste più sulla base appunto dei disegni originali di Raffaello. Sulla base dei disegni è stato realizzato un plastico che è diventato proprietà del Centro Studi Vitruviani di Fano, che ora è stato richiesto proprio dalla National Gallery, che stava organizzando una grande mostra sulle devine pittore di Urbino. E questo esempio, guardate qui che bella fotografia, vediamo questo plastico e questa bellissima facciata di un palazzo, che dimostra le qualità non solo di Raffaello pittore, ma anche di Raffaello architetto, come del resto lo era Michelangelo, Leonardo e gli artisti del Rinascimento. Ancora dipendenti ricoverati, nessuna traccia di monossido di carbonio alla Tecnoal, dove molti dipendenti avevano accusato malesseri alla fine della settimana scorsa, ebbene si lavora per cercare di capire qual è stata la causa di questi malesseri. Bruciamo il Covid, va in scena il rituale. Questo articolo riguarda Monteporzio. Ebbene, un gruppo di ragazzi ha realizzato un virus monumentale, una grande palla di carta con dei tubi che insomma raffigurano gli tentacoli del Covid-19. Bruciamo il Covid, è l'invito di un gruppo di giovani artisti del territorio, artefici di una iniziativa originale che avrà il Sucludo domani sera, poco dopo alle 19, a Castelvecchio di Monteporzio, quando le fiamme divoreranno un'enorme palla colorata di carta e legno che avrà le sembianze appunto di un'immagine del virus. È un modo per esorcizzare la paura e per insomma così avere un attimo di rivalza nei confronti di questa pandemia che ancora è presente nel nostro territorio. E poi un articolo di cronaca a Terre Roveresche. Gli strappa la catenina d'oro arrestato un giovane. Si tratta di un giovane che è stato fermato dal tempestivo intervento del personale di sicurezza della discoteca e quello dei carabinieri di Terre Roveresche, il che ha consentito di assicurare alla giustizia questo ragazzo che sabato scorso, in un noto locale della Val Metauro, ha tentato di possessarsi di una catenina d'oro strappandola dal collo del proprietario. Si tratta di un ragazzo ventenne di origine marrocchina. A Urbino rapinavano fuori dai locali tre gli arresti. La polizia ha posto ai domiciliari su ordine del GIP una mini gang che veniva a Urbino dal Riminese. Quattro mesi fa aggredirono con il coltello in centro a Urbino. La loro specialità era quella di rapinare, dare pugni e minacciare con un coltello le vittime affinché poi non presentassero denuncia. Ma non è andata comunque come la pensavano. Tre ragazzi tra i 21 e i 22 anni del Riminese sono stati arrestati dalla polizia e posti ai domiciliari per rapina, lesioni e porto abusivo d'armi. L'ordinanza è stata emessa dal GIP di Urbino su richiesta della procura. Giriamo ancora la pagina e vediamo come ad Urbino si moltiplico, come anche ad Urbino si moltiplicano le iniziative di solidarietà nei confronti della popolazione ucraina. Il mio viaggio in Ucraina dove Urbino salva le vite. Il titolo di questo articolo che dimostra che evidenzia la spedizione compiuta da Giulio Lonzi che è il fiduciario dello Slow Food di Urbino, il quale ha descritto, perché lo ha visto personalmente, l'inferno della guerra al ritorno della sua missione che è andata a buon fine. Abbiamo consegnato, ha detto Lonzi, un tir con circa 30 euro pallets per oltre 20 tonnellate di generi di prima necessità, tra cui oltre la metà costituito da eccellenze marchigiane e del resto d'Italia, poi vestiti medicinali per un viaggio di circa 4.000 chilometri, tanti quanti ne separano la nostra regione dal confine dell'Ucraina. Ho incontrato anche il vice comandante dell'esercito, ha detto Lonzi, cercano soprattutto caschi, giubbotti e kit pronto soccorso. E poi ad Urbino i bambini delle elementari manifestano per esorcizzare la paura. Sono iniziative queste che si ripercuotono, che vengono organizzate un po' in tutte le scuole, dove si insegna in modo particolare, si insiste nell'elevare il significato della pace, un ideale che dovrebbe accomunare un po' i bambini di tutto il mondo. Vediamo anche le pagine pesaresi pubblicate sul resto del Carlino. Ci sono ancora pagine che mostrano i commenti per la grande vittoria che la città di Rossini ha ottenuto nel concorso per capitale nazionale della cultura. Ci sono i politici, ci sono gli imprenditori, le associazioni che esultano per questo traguardo raggiunto. Il sindaco Matteo Ricci già pregusta il ritorno economico, sì, perché poi queste iniziative procurano turisti, procurano presenze, arrivi e quindi movimenta l'economia del territorio. Per la città, ha detto Ricci, è una promozione pazzesca. Sviluppiamo il brand per almeno un paio d'anni, per questo è un investimento e domani poi si organizza la grande festa in via Cavour. Metodo ascolto, dedizione e rapidità, così abbiamo vinto il titolo di capitale. Parla Cristian della Chiara, che è stato, che è direttore generale del ROF e del GAD, il quale racconta i mesi che hanno portato al primato. Sapevamo di aver fatto un lavoro importante, ha dichiarato appunto il direttore generale del Rossini Opera Festival. Alla villa non ci si avvicina neanche con i droni. È la villa che appartiene a Valentina Matvienko, ovvero al figlio, Sergei, di questo personaggio molto molto importante nella Russia di Putin. Ebbene, che cosa accade? Accade che la presenza di questa villa nel Pesarese, sul Colle San Bartolo, ha attivato la curiosità di molti mass media, i quali con le loro telecamere volevano indagare, volevano vedere quello insomma che si aggirava attorno alla villa. In realtà questo non è stato possibile, perché poi è stata schermata questa costruzione per evitare che qualche esaltato potesse così compiere un atto non dovuto, un atto inqualificabile. La dimora della zarina schermata, l'apparecchio di una troupe di Mediaset abbattuto con un sistema di interferenze. E poi abbiamo un personaggio che pone le mani avanti. Si tratta di Aftandi Askerov, conosciuto da molti imprenditori pesaresi, ebbene lui gestisce molti affari con la Russia, però non è russo, lui ci tiene a precisare che è nato a Baku, in Azerbaijan, però ha degli affari con la Russia. Ha una fabbrica di mobili, tra l'altro con alcuni soci che sono pesaresi, e poi un negozio che in questo momento si trova nella Piazza Rossa, però è chiuso. Però c'è un altro supermercato di arredamento che lavora perché ha prezzi popolari. Il resto dei suoi affari li gestisce negli Ammirati Arabi, che ora vuole aprire una società qui in Italia, a Genova, per rifornire le navi di carburante senza farle entrare nei porti. Insomma è un imprenditore che ha diverse sostanze, rifiuta il titolo di oligarca, insomma prende le distanze da Putin e dice, vabbè, io ho i miei interessi in Russia, come anche molti pesaresi lo hanno, perché avevano delle relazioni con questo paese. E poi c'è anche i russi, sono anche i russi, i russi che vivono nel nostro territorio, i quali si sentono molto molto ammareggiati per quanto sta accadendo. Io russa chiedo scusa agli ucraini, ho aperto la mia casa ai profughi. La drammatica testimonianza di Nadezda, vivo nel mio appartamento e li aiuto come posso, ha dichiarato. Ai miei familiari al telefono racconto il genocidio, ma mi rispondono che sono tutte falsità. E questo appunto è la conseguenza della censura che vige in Russia per quanto riguarda quello che accade realmente in Ucraina. Corinaldo, più carcere alla banda dello spray, la Corte di Appello, non ha affatto sconti ai sei imputati che provocarono il fuggifuggi appunto nella discoteca della Lanterna Azzurra, riconosciuta all'associazione a delinquere che in un primo grado di giudizio era stata evitata. La banda dello spray, condannata anche per l'associazione a delinquere, nessuno sconto in appello ai sei ragazzi della bassa modenese accusati di avere spruzzato una sostanza urticante all'interno della discoteca procurando sei morti. La prendono a botte e mettono il video sul web. Un caso di bullismo femminile in una scuola pesarese al Benelli. Il fatto è avvenuto nel tunnel all'altezza dello scientifico. Stanno indagando i carabinieri. È una ragazza, una ragazza che è stata aggredita proprio fisicamente dalle sue compagne di scuola, non nelle pareti all'interno della scuola, ma nel tunnel all'altezza del liceo scientifico che porta alle fermate del bus. È accaduto un paio di settimane fa. I carabinieri di Pesaro stanno indagando per ricostruire i contorni dell'episodio. È ancora pochi agenti e medici per troppi detenuti nel carcere di Villa Fastigi. Il garante regionale Giulianelli fa il punto sulle carceri. Villa Fastigi è tra i più sovraffollati. Spazi angusti per lavori anche a Fossombrone. Grazie ai volontari si possono creare le occasioni per dare assistenza ai reclusi, ma le guardie sono poche e spesso sono sovraffatte dalla violenza dei detenuti. Guardagni facili con l'ecologia. Arriva la finanza a Pesaro. Le fiamme gialle stanno indagando su un 49enne di Pesaro che prometteva investimenti nella trasformazione della plastica in carburante. Le fiamme gialle in questo caso gli hanno sequestrato la casa e il computer e poi anche i telefonini. L'indagine nasce da un'autonoma attività investigativa del nucleo di polizia economica finanziaria di Pesaro con la quale erano state individuate alcune persone che svolgevano da circa tre anni nella provincia pesarese sul territorio nazionale un'attività illecita di collocamento di investimenti di natura finanziaria promossi da varie società estere che facevano tutte capo a un gruppo, si tratta del Corsair Group International, insomma un'attività illecita che è stata sgominata. Ed ora passiamo al Corriere Adriatico. Vediamo l'apertura che il Corriere fa sulla pagina di Fano. Vediamo che si tratta dunque, eccolo qua, si tratta delle iniziative in favore dei profughi ucraini. Appello alla grande distribuzione, aiutateci a raccogliere alimenti. Il Comune coordina un po' tutte le iniziative che si svolgono anche a livello territoriale, in questo caso fanno capo all'assessore Barbara Brunori che sta allestendo degli aiuti da portare alla città polacca di Velizka. Velizka è una città gemellata con Fano dove affluiscono molti profughi che provengono dall'Ucraina e quindi in quel caso servono gli aiuti per aiutare, ovviamente non i polacchi ma coloro che fuggono dalle bombe. E poi si parla in questo articolo anche della spedizione che la protezione civile fanese ha fatto verso l'Ucraina. Si tratta di un furgoncino guidato dal presidente del CB Club Enrico Mattei, responsabile della protezione civile di Fano, Saverio Olivi, che si è alternato la guida con un altro volontario. Sono arrivati a Zamosh, una località vicino al confine con l'Ucraina dove hanno incontrato i responsabili del locale Rotary Club. Hanno consegnato una notevole quantità di medicinali raccolti nel nostro territorio, in modo particolare dall'AZED che gestisce le farmacie comunali ma anche da diverse realtà del Rotary di Ancona, di Pesaro, insomma di Urbino, di varie località. Hanno portato quantitativi importanti, circa 40 mila euro di medicinali, soprattutto medicinali che curano le ferite, insomma le ferite di guerra e quindi sono fasce, garze, disinfettanti e cose del genere. Insomma continua queste iniziative di solidarietà nei confronti appunto degli ucraini. Fiera di San Bartolomeo bisogna coinvolgere la città, è un invito della Lega che indica come l'amministrazione comunale deve rapportarsi con i cittadini, con i residenti, con le categorie per individuare il logo più idoneo dove svolgere la fiera di San Bartolomeo che si svolge ogni anno a partire dal 24 agosto. E poi una notizia importante e molto attesa è stato affidato l'appalto per la realizzazione della grande rotatoria del Codma dove si stanno verificando diversi incidenti, anzi ne verranno realizzate due, una più grande e una più piccola. Si tratta dell'incrocio tra via Campanella e via Barretti, un punto topico, un punto strategico della viabilità fanese che conduce un po' alla zona industriale di Bellocchi ma anche al Codma stesso e alla frazione di Rosciano. Giriamo ancora la pagina e vediamo come anche sul Corriere Adriatico si parli delle terme di Carignano che sono in stallo, proprietà uscita dai radar si intitola. Fanesi, ovvero il vice sindaco, preoccupato per il silenzio ma anche l'Udc rincara la dose. Seri dove sta? Ha sollecitato Pollegioni per quanto riguarda l'Udc ma abbiamo visto come sul resto del Carlino anche il sindaco Seri si è espresso e ha sollecitato la proprietà ad agire al più presto per riqualificare le terme. Poi parliamo di un incidente stradale per fortuna senza gravi conseguenze che si è svolto ieri mattina quando un ciclista che si stava recando a scuola come insegnante percorrendo la pista ciclabile di Viale Kennedy a Fano è stato investito da un'auto e la mancanza di una protezione di una linea di separazione tra la pista ciclabile e la carreggiata dove passano gli autoveicoli costituisce un pericolo per gli utenti più deboli della strada in modo particolare quando ci sono le ore di punta ovvero quando i ragazzi vanno e tornano da scuola. Flotte di ragazzi in bicicletta a piedi il motorino intasano la via e purtroppo accade che le auto invadano anche la pista ciclabile. Si tratta di Nicholas Ciufferri noto anche come scrittore a livello locale insomma un insegnante che dice che quella pista deve essere protetta. Giriamo ancora le pagine sul Corriere Adriatico e vediamo che a Fossombrone sono morti due daini soffocati perché sono entrati in un recinto dove si trovavano dei cavalli. Era un recinto della proprietà di Graziano Giambartolomei lungo la strada che da Fossombrone porta alla frazione di San Pietro in Tambis e qui vediamo purtroppo le carcasse dei due animali. Rescoprire i beni artistici della cattedrale è un'iniziativa che si inserisce nel festival del Bianchetto a Fossombrone. Appuntamento domani con le visite guidate e bene insomma nella cattedrale ci sono diverse opere d'arte che meritano di essere divulgate e conosciute. Telecamere a San Costanzo per quanto riguarda la sicurezza. Gli operai al lavoro per posizionare gli occhi elettronici all'interno del centro storico. Tutti i lavori hanno suscitato molte curiosità da parte dei residenti. Diverse sono state le installazioni nel municipio sfruttandone la centralità. E poi campo sportivo disastroso il comune intervenga. Si tratta dell'associazione marottese Arcobaleno che chiede all'assessore allo sport di Mondolfo una ristrutturazione completa. E vediamo anche la pagina di Senigallia mentre siamo in conclusione. Qui si parla della strage di Corinaldo, 70 anni di carcere, pene più pesanti per i sei dello spray. La banda che scatenò il panico alla lanterna azzurra colpevole anche di associazione a delinquere. Insomma una punizione più grave per questi ragazzi. E siamo in conclusione. Vi annuncio la partita che la Vis deve sostenere al Benelli e domani alle ore 17.30 contro il Modena. Serve molta calma, afferma il titolo. L'allenatore Banchini sul big match di domani con la capolista. Squadra e tifosi unica identità e non è un incontro facile. Mentre per quanto riguarda l'alma Juventus-Fano, Catalano tiene sulla corda la squadra. Siamo nei guai. Ora fuori la grinta perché insomma la retrocessione è lì a due passi e c'è una pausa di riflessione per il tecnico che richiama i suoi all'ordine. E questa era l'ultima notizia. Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento come sempre alle 7 di domani per la rassegna stampa. Buona giornata.